Una vittoria importante, una prestazione con grande personalità della parte della squadra che è ripartita oggi con il piede giusto, l'ha fatto, si è riscattata. Che partita è stata secondo lei? È stata una partita che dovevamo interpretare bene perché è stata una settimana particolare, molto particolare perché venire da un 7 a 1 non è mai facile è una partita delicata, però le ragazze sono state molto molto brave l'hanno interpretata bene, hanno fatto il gioco che volevano fare e credo che si sia visto. Oggi tornava dal primo minuto Rachele Peretti abbiamo visto un gol, due gol e un assist per lei con l'assenza anche di Veronica Pasini quanto è importante questo ritorno e soprattutto quanto è importante un ritorno così performante per la squadra? Rachele è importantissima per il Verona lo sappiamo, io sono molto felice che sia rientrata anche perché ha fatto un periodo un po' di infortuni che si è allenata poco e sono contento che sia tornata che abbia fatto un'ottima prestazione e anche i gol. Ora in vista di una sfida molto importante come quella di domenica prossima a Narni contro la Ternana come si lavorerà questa settimana e come si cercherà di preparare una partita, un big match insomma? Si lavora con entusiasmo, si lavora con la voglia sempre di migliorare si lavora con la consapevolezza delle nostre qualità e poi ce la giocheremo a Terni.